Questo è un altro precedente GFK che ho modificato con la scheda EcoCult e Major Framich. Adesso andiamo a provarlo con la minima potenza, come potete vedere da 16 watt di picco arriva a 30-35, prova, adesso aumentiamo la potenza. Ok. Quindi da 16-17 watt si sposta quasi a 50. Allora, attenzione alla frequenza, brecco, brecco. Allora. Allora. Adesso proviamo il prefetto Major. Allora. Brecco, brecco. Hola. Hola. Brecco, canale, brecco, brecco. Hola. 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 Torniamo come prima. Hola. Attenzione alla frequenza, brecco, brecco, passo.